Un turismo da ricalibrare sui tempi che cambiano. Pesaro ha tenuto oggi la sua sesta edizione degli Stati Generali del Turismo. Un'analisi a 360 gradi del comparto della ricettività calato anima e corpo nei tempi che corrono. Quelli di un 2020 ferito dalla pandemia e di un 2021 gravato da un carico di incertezze ancora tutto da decriptare. Non a caso l'abituale parterre di ospiti è diventato virtuale con un'edizione a distanza sulla piattaforma Zoom che non ha rinunciato ai suoi ospiti d'eccezione, da Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo, alla sindaca di Garmisch-Partenkirchen, Elisabetta Koch, fino alle prospettive offerte dal presidente Enit Giovanni Bastianelli. Era importante confrontarci, era importante partire da alcuni numeri, dall'analisi dei dati, di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e anche di quello che probabilmente è anche una domanda nuova che il turismo inizia a avere nel nostro territorio. Abbiamo visto una crescita del turismo, ad esempio, delle coppie e delle famiglie, che è un dato importante da cui ripartire. Abbiamo visto quali sono i punti di forza anche dal punto di vista della salubrità, di quello che si cerca in un momento del genere, di spazi aperti, di spazi larghi. Quindi su questo ritarderemo anche parte della nostra azione. È stato bello farlo appunto senza divisioni territoriali, senza visioni o steccati politici di nessuna natura, ma invece con la voglia di costruire tutti assieme per il bene del nostro territorio, perché il turismo ripartirà, ripartirà magari diverso. Noi saremo in parti diversi, in parte anche nella misura in cui saremo stati bravi a ripensarsi, però serve questo sforzo d'insieme delle città, Pesero-Fanurbino, Pesero-Gavare-Gabizio con questo protocollo che lancieremo nei prossimi giorni, legato alla riviera del San Bartolo, la provincia di Pesero-Utibino all'interno della regione Marche e la regione Marche dentro il sistema paese. Importante è anche il contributo dato dalla sindaca di Garmic sul pubblico tedesco, anche sullo scambio tra Pesero e Baviera rispetto ai flussi turistici legati alla cultura e legati anche all'outdoor e alla sostenibilità di percorsi ai piedi, bici, eccetera. E anche il progetto lanciato assieme a Gori di Bergamo e anche quello che potrebbe riguardare le città con testimoniali importanti come Rossini e Donizetti, Pesero-Bergamo, ma anche Puccini-Plucca, Parma con Verdi, eccetera, per promuoversi all'estero in un anno 21 che sarà anche di forte promozione all'estero, passando anche per Dante che comunque è una figura che legherà molte figure anche del nostro territorio, per promuoversi all'estero assieme alla rete del Ministero degli Esteri e del MIBAC per fare grossa promozione dell'Italia non solo delle tre città principali che ovviamente torneranno con la riepertura di voli a un grande turismo come Milano, Venezia e Roma, ma anche all'Italia che a partire dalla cultura, dalla bellezza e dai centri storici e dall'arte può dire tanto e può dire tanto in rete. Quindi questo amo gettato da Bergamo, anche in linea con l'ingresso di Bergamo assieme a noi ora nelle città creative UNESCO, è sicuramente una trassa importante di lavoro che guarda anche verso la corsa di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2022 e invece l'obiettivo già raggiunto di Bergamo a Capitale Italiana 2023, quindi anche qui un palcoscenico, un terreno di lavoro comune tra le città che costituiscono parte di questo progetto e con l'obiettivo più grande, generale, più volte richiamato della Capitale Europea della Cultura 2033 che riguarderà tutta la provincia di Peserubino.